Accessibilità, fruibilità ma soprattutto sicurezza delle aree di risulta della vecchia stazione. Se ne è parlato questa mattina in conferenza stampa presso il gruppo consigliare del Partito Democratico, Emilio Longhi. Quali sono queste proposte che voi avete presentato? Sì, è una proposta che deriva dall'ascolto che abbiamo fatto con i cittadini che utilizzano i parcheggi dell'area di risulta. La proposta è molto semplice, l'istituzione è un servizio di vigilanza. Nelle ore serali e notturne che poi potrà estendersi anche il venerdì e il sabato soprattutto a servizio di quanti frequentano i locali del centro fino anche alle 2 e alle 3 di notte. È un servizio per garantire una maggiore serenità per quanti lasciano la macchina in sosta nelle tre aree sostanzialmente a parcheggio dell'area di risulta quindi l'area davanti al bingo di via Michelangelo, l'area posteriore del terminal e l'area che va da Piazza della Repubblica a via Teramo e via Pisa. In queste aree vorremmo istituire un servizio di vigilanza che garantisca una maggiore serenità che funga da deterrente nei confronti di quanti sono soliti utilizzare quell'area per praticare soprattutto per parcheggiatori abusivi. Ecco, la presenza soprattutto proprio di questi parcheggiatori abusivi in tutte le ore del giorno e anche nelle ore serali rappresentano un problema che esiste però da tempo. Sì, è un problema che le forze dell'ordine conoscono e su cui agiscono e la nostra proposta mira in collaborazione con le forze dell'ordine perché riconosciamo che è impossibile avere un presidio sostanzialmente fisso perché ci sono tante emergenze in città, tante situazioni da tenere sotto controllo però noi vogliamo garantire appunto con questo servizio una maggiore serenità e pensiamo che sia un forte deterrente insomma per quanti malintenzionati vogliano utilizzare quelle aree a parcheggio per vessare in maniera spesso anche molto insistente chi parcheggia la propria auto.